Benvenuti in questa nuovissima puntata, oggi nuovissima puntata di Roblox, in questo caso sempre nel nostro ristorante famoso che sta facendo abbastanza soldi, anche se dobbiamo comunque sistemarlo, infatti oggi facciamo un bel rimordinamento generale non del tutto perché comunque bisogna ancora avere un po' di soldi per andare avanti ma abbiamo visto nuove cosette soprattutto rilegate al cibo infatti possiamo toccare del cibo nuovo ovviamente che vedremo nella prossima puntata in ogni caso vi invito a lasciare un bel like, mi raccomando cerchiamo di raggiungere i 400 like per una nuovissima puntata di Roblox Restaurant Tycoon, mi raccomando e guardate la puntata di oggi, iscrivetevi qui sotto nei commenti se avete i nuovissimi giochi da provare perché ne proverò altri nelle prossime puntate visto che mi avete consigliato già dei giochi nella scorsa puntata, mi raccomando Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Roblox la prima puntata mi è piaciuta davvero tantissimo e sono felicissimo che vogliate nuovi episodi mi avete addirittura consigliato degli altri giochi qui sotto nei commenti, quindi ne faremo solamente altri ma ora andiamo avanti con la nostra piccola zona qui mi avete detto che potrei addirittura prendere degli altri chef e fare altre cose tipo altri menu anche di altri generi e ho sbagliato anche in realtà un menu che mi avete detto che non era israeliano ma era, sono sbagliato non mi ricordo cosa, non mi ricordo esattamente però mi avete detto che ho sbagliato mi dispiace, evidentemente dovevo cliccarci sopra e scoprire il nome poi ne sono accorto tanto quando ho fatto l'italiano ma è una cosa comunque giusto così giù di lì ora che abbiamo tutto quanto, abbiamo già tutto possibilmente fatto bene vorrei fare un'altra cosa, vorrei prendere un altro lavoratore che dovrebbe essere in questo caso l'altro wyter così che lo posso lasciare lì e fare le cose abbiamo anche un world star chef, quanto costa questo? oddio aspetta lo posso richiedere anche da qua oh wow, ah addirittura vado in giro nel mondo a trovarlo no 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 vabbè è troppo complicato con che cosa, lasciamo stare facciamo direttamente tanto un lavoratore tranquillo e sciallo e non posso tornare, ah oddio aspettate cosa posso fare, posso andare a richiedere nuove cose ah possiamo quindi in questa maniera trovare altri dishes e comprarli in sostanza quindi facciamo questo e vedere ciò che posso far fare allora questa roba voglio farla fare, chi però non so cosa sia vabbè la paella, ecco che è la paella, perfetto e quella sotto che cos'è? è il cinnamon roll vabbè questo lo prendiamo, finiamo e quindi prendiamo un nuovo chef e teoricamente ci servirà un'altra cucina per lo chef quindi no per ora non lo possiamo fare, a questo punto andiamo direttamente per il writer e andiamo per un maschio giustamente e adesso dovrebbe arrivare, quindi facciamo start working in questa maniera e ora dovrebbe arrivare tranquillamente appena possibile un altro lavoratore che tipo in realtà mi serviva soltanto per far entrare la gente e fare quello che deve fare questa roba che cos'è? non lo so, vedremo in ogni caso non so dove sia nella seconda puntata mi ero dimenticato di salire anche sopra perché sopra c'è un secondo piano infatti vedete possiamo fare addirittura le strade per far arrivare la gente giustamente, ah ma ce ne sono altri quindi, oh che bello e sono cooking table quindi in realtà posso cucinare lì sopra senza problemi qua posso addirittura usare il computer e del manager fantastico, mi sta, ci sta come cosa fin fine abbiamo la cosa per i milkshake, gli smoothie, gli hot drink tutte cose fighissime che possiamo comprare in futuro e vedremo un po' assieme cosa fare per il momento avere solo queste cose ci va più che bene nel frattempo potete notare non abbiamo aumentato più di tanto in realtà anche il rating perché sta abbastanza stabile però vorrei comunque migliorarlo pian piano per fare altre cose nel frattempo almeno per quanto riguarda cibo e il resto abbiamo i nostri due camerieri che stanno prendendo gli ordini che è tanta roba infatti vedete adesso stanno cercando di prendere più ordini possibili e stanno anche cucinando tutto è necessario quindi adesso non dovremmo avere problemi nel fare noi le cose però io pensavo a cosa fare per ampliare un po' tutto quanto e quindi vediamo un attimo assieme se faccio build posso effettivamente costruire molte più cose sinceramente l'ho trovato benissimo allora per espandere la mia aria e quindi fare un'aria di dietro che in realtà mi servirebbe perché comunque ci sta ho bisogno di 500 per il plot vabbè ci metteremo un po' e vedremo un po' come fare nel frattempo ovviamente li abbiamo sempre subito non so perché non mi salva in realtà da Ulissis cioè da Ulissi anzi perché effettivamente dovrebbe tenerlo sempre stabile ma non lo fa ogni tanto quindi boh bella domanda magari tipo è un problema quando vai a rilogare voglio un attimo però cambiare anche diciamo tutto quanto per quanto riguarda il floor e a questo punto per farlo ho bisogno in diamanti e quindi non lo farò va benissimo mentre per quanto riguarda il ristorante e tutto il resto non lo posso fare anche per cambiare in realtà queste cose qui devo un attimo vedere come fare e infatti un po' visto che ci sono voglio andare da mamma mia un ristorante italiano come vedete qui che addirittura vende un sacco di roba guardatelo guardate cioè qua abbiamo un ristorante tutto grande 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 dove sono le cucine? addirittura c'ha pure le canzoni ah ok c'ha qui le cucine c'ha e dietro anche e c'ha la gente che può venire qua a far cose va bene ci sta è una cosa carinissima e voglio fare anche come lui tutto quanto quindi quasi quasi adesso iniziamo a guadagnare un po' di soldi cosa che stiamo guadagnando in realtà però sono stupido perché devo ritirarli se no non posso andare avanti vorrei utilizzare questi soldi per diciamo ampliare un po' tutta la mia zona qui dentro quindi andiamo a chiudere subito il nostro ristorante per il momento quindi closet va bene e ora che abbiamo un po' di gente possiamo iniziare a costruire quindi facciamo un bel build e iniziamo a rimuovere un paio di tavoli ragazzi quindi andiamo a fare store di roba quindi mettiamo tutta questa roba a posto va bene e iniziamo a fare le prime cose quindi vediamo un attimo di fare in questa maniera facciamo finish e oltre questo devo anche fermare di lavorare questi anche tipi qua così possiamo sistemare il tutto e renderlo molto più bello abbiamo quindi migliorato un po' tutto e più o meno questo è il prospetto della nuova cucina ho messo più o meno tutta questa gente qui ho speso un po' di miei soldi effettivamente per fare cose e come vedete qui adesso abbiamo a disposizione un po' di cose più utili più che altro ho deciso di fare in questa maniera così possiamo far sedere tutti quanti il dubbio adesso è ci passano qua in mezzo mi sa di no ragazzi sapete quindi devo in qualche maniera posizionare meglio queste cose o fare dei tavoli da due e a questo punto direi che forse ci conviene mettere tutti qua lateralmente e qua magari ci mettiamo i tavoli con la gente di meno tipo due o tre persone giustamente e alla fine quindi questo è ciò che abbiamo creato ora bisogna stato mettere i lavoratori giustamente e poi avremo creato il nostro super ristorante quindi iniziamo a piazzare per ora gli chef tutto il resto eccolo qua anche il nostro secondo chef benissimo e giustamente a questo punto mi servirà un altro chef ulteriore per poter lavorare e fare cose quindi a questo punto ne cerchiamo comunque uno world star e volevo vedere giustamente se riesco a trovarlo quindi eccolo qua l'european chef ok e lo mettiamo qua perfetto e anche lui inizierà a lavorare ecco qui un altro world star chef si è un world star chef qui adesso avremo molti più cibi da poter vendere ovviamente e quindi vincerò addirittura le world star coin che posso utilizzare per sbloccare altri cibi perfetto mi piace come cosa va bene quello che mi sa che lui costa un pochetto di più no non costa proprio niente va benissimo mi piace e ricordiamoci dobbiamo progrinare anche gli chef perché bisogna comunque portarli a un buon livello giustamente e iniziamo subito ad aprire il nostro ristorante in questa maniera perfetto e adesso arriverà gente senza problemi nel frattempo noi ci facciamo un po' di soldi e con questi soldi andiamo a fare l'upgrade generale dei nostri piccoli dipendenti perché vorremmo trovare un po' di cosette buone appena possibile ovvero appena arriverò a 500 facciamo l'espansione e andiamo avanti vedete qua questo tipo sta ordinando delle cose che non sono italiane perché giustamente abbiamo un nostro chef 5 stelle che fa tanta roba infatti vedete qua il tapas e andiamo subito a servire noi perché siamo delle brave persone e mangiano cose di altri posti quindi GG per noi come vedete abbiamo sbloccato un bel po' di questa roba quindi teoricamente adesso potrei sbloccare nuove cose mi sembra si basta che vado tipo sul worker e posso sbloccare nuove dishes che però vedete costano un po' di punti e quindi i primi 3 te li danno gratis gli altri invece devi guadagnarteli pian piano e potremo ufficialmente mettere anche nuove cose quindi ci sta come cosa e voglio sbloccare un po' tutto quanto appena possibile certo che quando vedo che siamo un ristorante italiano e la gente ci chiede le cose della Svezia io faccio ma c'è qualche problema esattamente penso proprio di sì vabbè però in un momento va bene meno male che ci sarà gente che tipo mangia almeno la pizza buona e gentile nostra giustamente però i nostri 3 lavoratori stanno funzionando abbastanza bene l'unica cosa brutta è che iniziano a costare un bel po' di più rispetto a prima e quindi proprio per questo devo cercare di trovare un modo per guadagnare sempre più soldi dalle vendite cosa significa che ho bisogno di sempre più posti per mangiare così che i lavoratori che sono 3 che bastano e avanzano secondo me per fare questo lavoro abbiano un po' di possibilità in più potermi far guadagnare un bel po' di soldi in più la cosa buona però è che quando vanno ad ordinare per esempio i cibi stranieri mi andano molti più soldi per esempio c'è questo tavolo che per adesso mi ha dato 70 certo ne ho persi 20 in realtà in quei due minuti però fidatevi che adesso guadagneremo un casino di soldi l'unica cosa che non riesco a fare è tipo avere qualcuno che mi piglia i soldi in automatico e sinceramente non so cosa come fare in sostanza e quindi boh ragazzi devo un attimo capire come fare in ogni caso voglio comunque sbloccare qua fuori una piccola cosa per poter ampliare un po' di cosette e voglio mettere altri tavoli appena possibile di qua magari ne so prendiamo tipo gente da 2 o da 3 non quelli da 4 così siamo a posto così non sprechiamo troppa roba perché teoricamente ci sono anche i tavolini piccolini da 2 o slash 1 oh qua mi ha dato pure il tip fantastico quindi abbiamo 6 di diamanti adesso e appena finiranno tutti quanti di mangiare potremmo andare tranquillamente avanti nel frattempo richiedono sempre cose piuttosto strane queste da mangiare ma tanto sono soldi in più quindi che ci lamentiamo a fare ora abbiamo un po' di soldi tipo 169 possiamo puntare a farci le altre rinnovi che vi dicevo prima quindi prendiamo un attimo questo è un po' più decente tipo questo per esempio però questi costano 30 questi costano 15 va bene c'è anche questo che tipo è più piccolo e comunque da 4 in realtà andano da 2 probabilmente allora prenderei questi che sono più belli però a questo punto optiamo per questo qual è la differenza sostanza ha cambiato tanto il colore del tavolo lo prendo blu ne prendo 2 per il momento va bene e prendo anche 2 sedie francy che costano un po' però sono sempre anche loro blu perché penso li farò tutte blu quindi ne prenderò 4 va bene abbiamo anche 2 tavoli da 4 perfetto tranquillamente adesso possiamo tornare nella nostra zona e iniziare a piazzare anche quest'altri e quindi vediamo un po' assieme se riusciamo in qualche maniera a fare tutto quanto quindi build e l'andiamo a mettere per ora da questa parte ne mettiamo per ora 2 perché soltanto quelli abbiamo e ci mettiamo questi ragazzi in questa maniera e adesso abbiamo come vedete a disposizione degli altri tavoli che sono da 2 però va bene perché a fine fine abbiamo un po' di spazio in più e possono passare dove vogliono anche se potevo mettere più vicini là ma non lo so in ogni caso potrei prenderne penso altri 2 o 3 in sostanza si tavoli da 2 ma in fine ci possono anche stare e nel frattempo qui andiamo molto bene perché guadagniamo anche un sacco di soldi come state vedendo qua sempre se riesco a beccarli in qualche maniera questi soldi senza fare finish eccoli qua e come vedete lavorano abbastanza bene i nostri dipendenti peccato che non pigliano i soldi andiamo anche a migliorare i nostri lavoratori quindi andiamo a prenderci ragazzi l'italian chef che adesso con 50 dovrebbe avere molte più cose quindi adesso che abbiamo predato dovrebbe andare bene nel frattempo apprediamo anche l'italian chef l'altro in questa maniera adesso abbiamo altre cose tipo gli spaghetti e meatballs che prima non avevamo la peperoni pizza mi sa e anche la garlic bread che è tanta roba quindi abbiamo a disposizione un po' di soldini più che altro le cose pian piano inizieranno a costare sempre di più quindi meglio avere un po' di cose costose che ci danno un sacco di soldi in giro perché comunque i soldi dobbiamo guadagnarli in qualche maniera ovviamente pian piano arriva sempre più gente e cosa ci sta vedete qui anche quelli da 2 stanno piuttosto felici e una cosa che voglio fare è solamente cambiare tutte le sedie infatti appena avrò un bel po' di soldi penso giocherò magari in off camera cambierò le sedie per tutte queste cose perché queste gialle non mi piacciono e sinceramente vorrei anche i tavoli così perché sono più belli sono più fancy sono un po' più diciamo costosi ma anche effettivamente visivamente sono più belli e cercheremo in qualche maniera di stimare un po' tutto nel frattempo i nostri camerieri si comportano abbastanza bene potremmo ovviamente migliorarli aumentare di livello così che possano in qualche maniera magari in futuro anche raccogliere i soldi però per il momento i soldi stanno arrivando ci mettiamo un po' a fare tutto quanto ma va bene così ragazzi quindi io per ora ragazzi vi saluto noi ci vediamo presto a un nuovissimo video cercherò un attimo di sistemare questa parte nella prossima puntata vi invito comunque a lasciare un bel like mi raccomando per nuovissime puntate vediamo un attimo assieme se abbiamo aumentato un po' di stelle ora siamo a tre stelle quindi tanta roba ragazzi stiamo migliorando un po' tutto in ogni caso lo resti tutto ciao ciao e alla prossima puntata ciao ragazzi ciao 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 ciao